default trade è l'evento io ritengo più importante più di tendenza più significativo con una nuova formula molto più divertente interessante che c'è in italia oggi penso sia il terzo anno che noi lo ripetiamo ed è un momento importante dal punto di vista dei vendor ho anche notato con piacere che avere questa visibilità genera interesse ogni anno ci sono rivenditori che si avvicinano alle nostre tematiche alla nostra società il garnet funziona convolt come primo in assoluto per il sesto anno consecutivo perché perché convolt non si limita più a fare backup recovery archiving convolta la differenza rispetto a tutti gli altri è tutto ciò che data management information manager ovvero il dato diventa vivo non è una cosa che si archivia e basta ma diventa uno strumento di business per l'azienda stessa questa è la differenza tra prima e oggi in termini generali quello che ho scritto prima esprime valore quindi tutti coloro che sono interessati al valore possono essere interessati ai nostri temi ea convolt ciò che data management information management è una cosa che va spiegata e gestita e quindi i clienti hanno bisogno in questo caso clienti diciamo medio grandi di un approccio consulenziale avere un approccio consulenziale differenza un rivenditore one stop shopping da chi fa semplice reselling a chi invece fa un po di consulenza un po di professional services nello specifico invece su convolt sicuramente vuol dire avvicinarsi a un vendor che fa qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri che propone l'innovazione veramente della gestione dei dati e quello che convolta veramente bisogno oggi è partner in grado di erogare i servizi professionali siamo costretti perché non abbiamo 60 persone in italia a dare i servizi parte dei servizi professionali a società terze che le erogano per conto nostro per conto dei rivenditori quindi insomma chi diventa nostro rivenditore ha l'opportunità di vendere i propri professional services le proprie consulenze e noi potremmo appoggiarsi a questi rivenditori per come se fossero terze parti per rivendere la nostra volta a